Ciao ragazzi faccio questo video per CastelliAlberto97 Ci siamo appena accordati per uno scambio Questa era la carta per MrMingo ma mi dispiace Mingo Mi togli qualcosa nella posta perchè non posso più dartela Questa è per un utente di Skype, anche a lui gli tolgo qualcosa Gli tolgo il cacciatore a molla E niente Gli devo spedire queste, gli faccio vedere le condizioni Gli devo spedire queste due carte Più 45 euro in contanti Per una boost tour del mondo sotterraneo Lui aspetta il suo video Vabbè stella cadente gli ho già fatto vedere tramite Skype E Mint Lo spedisce per primo perchè gli ho detto che mi sarebbe per sabato per un torneio Ha detto va bene non ci sono problemi Infatti gli metterò un sostanzioso extra per questo Tutte Mint le carte L'extra gli metterò qualche carta foil Tipo questa, questa, questa Dentro questa bustina arancione gli metto un piccolo extra Aspettate Ok ecco un piccolo extra Abbastanza sostanzioso Sono tre carte però tutte foil Ha detto anche lui che mette un extra E spedisco Dunque 5 Aspettate Sto facendo due calcoli Allora io spedisco Oggi, domani, dopo domani Allora Domani, essa, domenica, lunedì, martedì, mercoledì Giovedì, venerdì No ma che cazzo sto sparando Ok io spedisco Mercoledì Mercoledì Io spedisco Gli ho detto martedì, mercoledì Perché non riesco ad avere i soldi per prima Perché devo fare dei risparmi E devo andare bene a scuola Così E niente Martedì, mercoledì Io glielo ho già detto Si farà comandata uno Niente Ciao ciao